ciao a tutti i trader e aspiranti trader io mi chiamo paolo sono un trader professionista da ormai quattro anni gestisco una community che si chiama The Trader Lobby assieme al mio socio Dave e in questo video vi farò vedere come fare profitti nella maniera più semplice possibile su Dow Jones che cos'è il Dow Jones? il Dow Jones è un indice un indice sul quale si potrà dare sia con i CFD che con i future in questo caso andremo a guardare i CFD cioè i contract for difference e che cosa andremo a vedere andremo a vedere una strategia che ci permetterà di guadagnare nel medio periodo diciamo in maniera veramente semplice come si fa a guadagnare in maniera semplice sugli indici si fanno operazioni di lungo termine in genere cosa fanno le persone in genere le persone fanno scalping sugli indici per ottenere guadagni in maniera molto veloce e in maniera molto efficace ma nessuno pensa che il guadagno più sicuro del mondo è guadagno ovviamente senza rischi di mercato come facciamo ad andare a creare un guadagno su Dow Jones con pochi rischi di mercato allora semplicemente io utilizzo due strumenti per andare ad abbassare questo rischio di mercato intanto una piccola cognizione tecnica dovete averla cioè dovete capire la struttura di mercato soprattutto dovete capire se siamo in un downtrend in un uptrend se la sequenza di mercato rappresenta massimi e minimi crescenti o decrescenti se volete delle delucidazioni in merito scrivetemelo nei commenti che vi farò vedere mi farò un video dove potete vedere come riconosco i massimi e minimi crescenti e decrescenti perfetto in questo video molto rapido vi farò vedere come trago long term il Dow Jones long term può significare sia due tre giorni che anche una settimana dato che il Dow Jones è un indice fortemente for low trend io non mi focalizzo troppo sul chiudere aprire e chiudere il trade in una giornata e basta io mi focalizzo su seguire il trend come seguo il trend allora prendo essenzialmente questo indicatore smma lo andato a trovare qua in indicators scrivendo smma smooth moving average vado a settarlo in questa maniera negli input del canale del dell'indicatore metto 200 periodi e sono a posto mi crea questa media mobile perfetto che cosa vuol dire questa media mobile che cosa significa che cosa rappresenta rappresenta ogni 200 periodi il movimento del trend ok il time frame in cui io vado a valutare e a tradare questa situazione è i 15 minuti i 15 minuti è un time frame già abbastanza ampio che mi permette di ottenere dei trade molto lunghi nel mercato che cosa ho abbinato a questo indicatore ho abbinato l'RSI lo vedete qua in basso l'RSI è un indicatore di iper comprato e iper venduto che cosa significa significa che quando il prezzo è sulla parete alta del mio RSI il prezzo vuol dire che è iper comprato quindi si tenderà a vendere il prezzo in quella zona se invece il prezzo si trova sulla parte bassa sulla parete bassa dell'RSI vuol dire che il prezzo è in iper venduto di conseguenza andrò a comprare quel prezzo ok qua si tratta di seguire le inversioni potenziali del prezzo ok benissimo abbinando questi due indicatori io so perfettamente quando andare a compiere le mie operazioni allora ve lo faccio vedere in maniera molto pulita eccoci qua qua vediamo che il trend sta toccando la mia media mobile a 200 periodi vedete in questa situazione vi faccio vedere la situazione più chiara possibile in modo che voi possiate essere i più efficaci possibili nel mercato allora qua il prezzo mi va sulla mia media mobile perché non ho preso questo esempio perché questo esempio non ha l'RSI sulla parete quindi non vale diciamo non compie la combinazione di indicatori che io voglio ottenere il prezzo si trova sotto la media mobile quindi sotto la media mobile per me significa entrare in una posizione short entrare in una posizione ribassista se il prezzo si trova sopra la media mobile a 200 periodi 15 minuti significa per me che il prezzo deve ottenere un trade rialzista bene io qua che cosa combino perché non entro su questo tocco perché il prezzo non è sulla mia media mobile invece qua il prezzo tocca comunque la parete alta del mio RSI non vi ho fatto vedere RSI lo trovate semplicemente digitando RSI nella banda indicatori RSI selezionate questo e vi comparo in basso questo indicatore perfetto voi qua vedete che c'è anche una lateralizzazione di mercato su una parete alta di iper comprato e il prezzo è andato a testare questa media mobile vi faccio vedere la potenza di questo trade vi faccio vedere esattamente quanti pips va a fare dopo sui metodi d'entrata possiamo andare a guardare nei prossimi video un sacco di cose però guardate qui lo stop loss va sempre tenuto sopra gli spike precedenti sopra le reazioni precedenti come vedete ok però guardate che potenziale che ha questo trade questo trade ha un potenziale esagerato addirittura qua si potrebbe compiere un 1.5 1.4 e mezzo veramente facile perché poi il tp ve lo dà la memoria di mercato e dove va messo il tp il tp va messo dove il prezzo in precedenza ha reagito comunque andiamo a vedere un'altra situazione interessante allora ok andiamo a vedere qua dove il prezzo sale sopra il mio la mia media mobile a 200 periodi e qua teoricamente dovrei vendere il prezzo dato che è sulla mia media mobile e il mio rsi è in iper comprato ma guardate come va sopra la candela rompe totalmente la mia media mobile di conseguenza non è più interessante per me e allora diventa rialzista giusto il mio trade da compiere è rialzista perché non lo posso aprire qua un trader rialzista perché il mio rsi non è sulla base passa sulla parete basta quindi non posso assolutamente andare a compiere un buy perché non è abbastanza in iper venduto il prezzo perfetto cerchiamo altre situazioni eccoci qua benissimo su questa media mobile vedete che entra un seller il prezzo ha già iniziato a droppare il mio rsi e allora è perfetto è perfetto quindi andiamo a compiere un trade ribassista su questa situazione allo stop loss va messo sopra questa figura ok quindi va messo qua oppure andate a vedere anche la memoria di mercato ma qua va benissimo e guardate proprio la memoria di mercato vi da il primo take profit che è assolutamente questo e sono già 140 punti il secondo take profit è assolutamente questo ogni volta che il prezzo crea un rimbalzo voi dovete essenzialmente prendere un take profit guardate altro take profit qua dopo il prezzo non va a prendere anche l'ultimo ma vi torna indietro non lo va a prendere per pochissimo perché arriva fin qui e sarebbe stato idealmente qua lo vedete che anche questo è un grandissimo trade fatto con estrema facilità in soldoni che cosa voglio dirvi voglio dirvi che se voi combinate l'rsi quindi un indicatore che vi da l'iper comprato l'iper venduto di mercato con la media mobile smooth 200 periodi create nel time frame 15 secondi una strategia semplice e che potete applicare già da domani nel mercato se iniziate a cambiarmi il time frame quindi a scendere il time frame c'è il rischio di cosa c'è il rischio che questo trade questa tipologia di strategia non sia più efficace come vi ho fatto vedere in questo video se replicate esattamente questa strategia come vi ho fatto vedere quindi tocco della media mobile entrata del mio player quindi se voglio andare sell è entrata di un seller quindi una candela seller se voglio andare a buy un'entrata di un buyer di una candela buy e un rsi combinato nella giusta posizione fidatevi che il win rate di questa strategia è veramente molto alto per avere altre strategie di questo tipo o per saperne di più accedete al discord della lobby ok ci troverete nei link che vi metto in descrizione di questo video se vi è piaciuta come strategia se vi sembra utile e se volete provare a replicarlo nel mercato lasciatemi un like magari un commento su quello che volete che io approfondisca nei prossimi video e io vi aspetto nei prossimi video ciao a tutti traders